Ben trovati da Nicola Pasqualato sul Popolo della Famiglia TV, canale Facebook, alle 10 e 59 minuti in diretta come ogni lunedì, tranne i giorni lunedì di festa ovviamente. Oggi non è festivo e quindi questo lunedì apriamo anche le danze dei programmi del Popolo della Famiglia, considerato che appunto stamattina Steppe Vangelo non è andata in onda. Quindi tocca a me, aspetta a me, l'onore di iniziare il palinsesto della settimana. Un saluto a tutti gli amici del Popolo della Famiglia e tutti gli altri naturalmente anche che ci seguono. Cominciamo quindi come di consueto ringraziando i primi che si mettono in collegamento e che cominciano a rimbalzare dopo aver cliccato mi piace su questa trasmissione di questo lunedì, ripetiamo, 24 aprile 2017 e come ogni lunedì dalle 11 a mezzogiorno ci occupiamo di autismo. Famiglia e autismo è il titolo di questo contenitore che si occupa di autismo perché la famiglia è centrale in ogni situazione di difficoltà, questo lo sappiamo ormai tutti, naturalmente è centrale anche per l'autismo. È il primo ammortizzatore sociale, la prima agenzia educativa. Ricordiamo che in particolar modo oggi parleremo di educazione in autismo, ma le regole dell'educazione poi vedremo che sono valide anche per le menti neurotipiche. E parleremo proprio di questo sull'argomento di oggi. È il primo nucleo sociale che gestisce quindi l'economia, l'educazione e il futuro delle generazioni future. E deve tornare al centro di tutto. Prisma per declinare ogni politica economica, ambientale, sociale, demografica, ma anche identitaria, nel rapporto con i diversi popoli che devono dialogare, ma non diventare un unico popolo se vogliamo rispettare l'identità storica delle persone. Dunque, in questa puntata di Famiglia e autismo, Facebook mi dice che sta ancora rimbalzando i contatti, parleremo di, ci faremo aiutare dal libro scritto da Temple Grandin e Sin Barron, dal titolo Le regole non scritte delle relazioni sociali. Scusate, so che si vede il titolo al contrario, al termine, saluto subito Anna Russo, al termine metterò la copertina del libro nel senso corretto appunto della facciata. È un libro edito in Italia da Uovo Nero e è scritto appunto a quattro mani da Temple Grandin, che è una zoologa, e Sin Barron, che è un giornalista, i quali cos'hanno in comune? Una diagnosi di disordine dello spettro autistico. Quindi, partendo dalle loro esperienze, la loro peculiare prospettiva di persone con difficoltà nella relazione di comunicazione, questo libro costituisce a chiarire per chiunque i complicati, oscuri, confusi e spesso incomprensibili meccanismi della vita sociale. Prima di iniziare dunque con il supporto di questo bel libro, che contiene le esperienze di Temple Grandin e Sin Barron, diamo una lettura di una notizia che riguarda l'autismo e i vaccini. Voi sapete che la più grande sciagura del mondo non è un caso che colpisca proprio l'autismo, perché noi ribadiamo sempre che l'autismo è la condizione più sciagurata al mondo. Questo è, per esempio, un esempio che lo dimostra. Perché? Perché l'autismo è colpito dalla più grande bufala mondiale. E c'è una notizia uscita un paio di giorni fa, il 22 aprile, noi la prendiamo dal quotidiano La Tribuna di Treviso, il titolo è questo, Medico Antivaccini, il dottor Gava radiato dall'Ordine dei Medici di Treviso. Il sottotitolo è Primo caso in Italia, inflitta la sanzione, più dura il cardiologo di Castelfranco, i legali preannunciano ricorso, una decisione che non è conforme al diritto, sostengono i legali. La notizia perché? Perché riguarda i vaccini e voi sapete che, appunto, abbiamo detto mille volte, c'è questo collegamento con l'autismo nella bufala più grande del mondo e la notizia arriva proprio da Treviso, quindi è assolutamente necessario darla. La sua posizione antivaccini gli è costata la sanzione più dura. Il dottor Roberto Gava, cardiologo dell'Usl, dell'ex Usl 8, perché adesso l'Usl hanno cambiato nome, di Castelfranco è stato radiato dall'albo professionale, un provvedimento che lo interdice dall'esercizio dell'attività, primo caso in Italia. Ecco perché la notizia è importante. Ad annunciare la decisione presa dall'ordine dei medici di Treviso, dopo aggiungiamo noi le segnalazioni dell'Usl, sono stati i legali del professionista, finito al centro di un procedimento disciplinare, ecco appunto l'intervento dell'Usl, per aver sconsigliato il ricorso alla profilassi vaccinale. Un comportamento controverso manifestato da Gava attraverso una serie di convegni, pubblicazioni e poste sui social network in cui si parla anche di vaccini e di fegi imunitari dei bambini, con riflessioni sulla pericolosità del siero, elementi che l'ente ordinistico trevigiano è iniziato a raccogliere in febbraio del 2016, con l'apertura di un fascicolo a carico di Gava, che è stato completato con le sue dichiarazioni espresse davanti alla commissione valutatrice. Dopo oltre un anno di lavoro, l'istruttore ha portato a ritenere che l'operato e specialista non fosse conforme alla deontologia e all'etica medica. Da qui la decisione di irradiarlo dall'esercizio della professione. Nelle parole dei suoi avvocati, la vicenda di Gava trasforma un giacuzzo contro l'ordine. E la radiazione, appunto dicono, è il massimo della sanzione però ragabile, ma non è conforme al diritto, sottolineano gli avvocati Silvio Riondato e Giorgio Piccolotto, come quella che sarebbe inflitta ad un medico pluriassassino dei suoi pazienti. Ciò significa che nel caso di Gava si è dispiegato il massimo di arbitrio e di irragionevolezza, scrivono i legali. Poi potete seguire negli articoli online e nei giornali la vicenda. Comunque questo è stato il primo caso in Italia di radazione, perché un medico, appunto, critica la pericolosità dei vaccini. Noi torniamo al nostro argomento, le regole non scritte delle relazioni sociali. Ecco che, quindi, grazie a Tempo ai Grandi e Sin Barron, entriamo nel mondo del funzionamento della mente autistica con delle debite, naturalmente, condizioni e cioè delle premesse. Le premesse sono sostanzialmente due. La prima premessa, visto che in questo caso parliamo di autismo ad alto funzionamento, cioè persone che non sono accompagnate nel loro autismo da un forte ritardo mentale o comunque un ritardo mentale o deficit cognitivo che impedisce loro di vivere in maniera sufficientemente autonoma e indipendente, tant'è che queste due persone, appunto, adesso vedremo brevemente la loro biografia, sono persone autonome, indipendenti, professionalmente realizzate, perché vivono dei loro stessi guadagni professionali, quindi rientrano, come si suol dire, nelle tipologie di persone ad alto funzionamento o con sindrome di Asperger, che è un'altra cosa, e quindi non rientrano nel gruppo di persone che hanno autismo con associato grave ritardo mentale, per cui tutto quello che si può sentire è difficilmente applicabile. Noi ci faremo aiutare da questo libro proprio perché ci sono dei passaggi, mi scuserete fin d'ora per il fatto che utilizzerò dei passaggi scritti, leggerò alcune pagine di questo libro, ma vedrete che nella descrizione e nella scrittura, soprattutto di Temple, è una scrittura molto asciutta e molto chiara che ci aiuta davvero, piuttosto che a tanti giri di parole, a capire ed esprimere ciò che pensa. Ma vediamo brevemente chi sono Temple Grandin, Voi sapete, è la persona autistica più famosa al mondo, vivente. Temple Grandin è autrice di un bestseller come La macchina degli abbracci, ricorderete, se non avete avuto modo di vedere il film, purtroppo viene trasmesso pochissime volte in televisione, il bel film Temple Grandin, Una donna straordinaria, un film del 2010, un film americano, biografico, e racconta la sua storia tenendo conto anche, non solo delle sue vicissitudini personali, della famiglia, di come la mamma si è impegnata nella abilitazione di sua figlia e parleremo proprio anche di questo, nell'importanza dell'educazione, nella abilitazione della famiglia. Ecco perché centriamo davvero oggi l'argomento in una neurodiversità che non ha nulla a che fare con l'educazione, cioè non è generata, non è causata, come ai noi tante teorie del passato purtroppo ancora viventi sostengono, causata appunto da errate relazioni psicologiche o comunque psicodinamiche con i genitori, con la famiglia. Questo no ormai è chiaro a tutti, la ricerca lo ha dimostrato ampiamente, ma le relazioni anche di tipo psicodinamico e comunque comportamentali e cognitive assieme aiutano molto, anzi sono fra le terapie validate che incidono maggiormente nel progetto di abilitazione di queste persone. Ecco che allora i libri e anche il film di Tempo e Grandi, ma sicuramente i libri, hanno contribuito e ha influito profondamente sulla conoscenza del funzionamento della mente autistica perché appunto quando le persone autistiche stesse descrivono il loro sentire, i loro comportamenti, il loro modo di ragionare, per esempio nel caso di Tempo tutti sanno che ragiona per immagini, poi appunto parleremo di questo, si è compreso meglio alcuni meccanismi della mente autistica. L'altra premessa, eccola qui, è che sicuramente se c'è un ambito in cui non è possibile generalizzare è proprio il mondo dell'autismo. Quindi categorizzare è anche obbligatorio per certi aspetti, in certe misure, quando si parla di sindrome di Asperger o di soggetti autistici ad alto funzionamento, comunque noi dobbiamo fare una categoria. Ma è altrettanto vero e dobbiamo sempre ricordarlo e sottolinearlo che tutte le persone autistiche sono anche molto diverse da loro e i meccanismi di funzionamento dei loro cervelli, se possono in qualche modo avere delle somiglianze, però su diversi tratti anche fondamentali, possono avere dei comportamenti e dei meccanismi di funzionamento molto diversi. Quindi doppia premessa, non parliamo oggi in questo caso di persone che hanno associato grave ritardo mentale e teniamo sempre a mente che queste sono le storie di due persone autistiche, le loro storie, non altro che le loro storie, ma con il giusto approccio da investigatore, come si parla nel libro, il giusto approccio del detective, che noi genitori, mamma e papà, e nonni e fratelli, eccetera, dobbiamo avere, quando abbiamo un figlio autistico, possiamo in un certo modo, con la logica e la ragione, che la mente neurotipica, ecco la grandezza per certi aspetti della mente neurotipica, ci permette di far aderire al caso nostro specifico e provare se alcune soluzioni adottate e descritte possono funzionare anche con i nostri figli. Dal resto si potrebbe utilizzare il termine dell'approssimazione continua quando noi cerchiamo di relazionarci con i nostri figli, almeno all'inizio, quando davvero è difficile, e poi un po' alla volta imperiamo a conoscere i nostri figli e capiamo, entriamo nella loro mente e cominciamo a comprendere come funziona per aiutarli nel maggior modo possibile. Ecco che allora Simbarron è un autore del libro C'è un bambino qui dentro che vuole emergere dall'autismo, questo è il titolo tradotto in italiano e tradotto in altre otto lingue. Oggi è un affermato giornalista e tiene conferenze sulla propria esperienza di persona con autismo, quindi due persone indipendenti, affermate professionalmente e autonome, che a quattro mani scrivono queste regole non scritte delle relazioni sociali. D'obbligo partire con un accenno alla prefazione. La prefazione ci introduce direttamente dentro all'argomento di oggi, che è sì la descrizione del funzionamento di due menti anche molto diverse. Ecco perché è interessante questo libro, ma perché tutto ruota attorno nel progetto di abilitazione alla educazione. Per educazione dobbiamo intendere l'aspetto più lato, la interpretazione più ampia del termine, perché la educazione è davvero il punto di partenza per ogni attività, per ogni terapia, per ogni progetto di vita delle persone con autismo. Ecco che allora nell'educazione delle persone, e comincio a leggere qualche riga, con disturbi dello spettro autistico, si sta attribuendo un'eccessiva importanza allo sviluppo delle competenze cognitive e troppo poco allo sviluppo delle competenze sociali. Ecco, nella prefazione si comincia già a fare una differenza. È vero che le terapie cognitivo-comportamentale sono relativamente recenti, di recente teorizzazione e realizzazione pratica. Ivar Lovas, nell'82, quando istituì, inventò, diciamo ufficialmente, ABA, noi diamo questa data, diciamo che abbastanza teorica, però parliamo di 30 anni, e 30 anni sono relativamente pochi per l'inizio di un approccio. anche se si è sviluppata notevolmente, e ha avuto anche notevoli approcci e notevoli, oltre che varianti, anche sviluppi. Ecco che la teoria cognitiva, ma soprattutto comportamentale, viene utilizzata per le persone con autismo già da quando sono bambini, ovviamente il primo possibile, appena ci sono i primi sintomi, le prime diagnosi, ma ancora, visto il periodo di tempo ancora ridotto, saluto Davide Raimondi e Margherita Gatto, Elena Di Pietro che ci segue, altre 13 persone che hanno cominciato a seguire, a condividere il video, ringrazio tutti alle 11.15 di questo lunedì, 24 aprile 2017. Dunque si diceva, le terapie cognitivo-comportamentali sono relativamente recenti. Ecco che allora il follow-up, cioè il ritorno, i risultati, gli effetti misurabili, quindi di tipo scientifico, e quindi calcolabili e proponibili scientificamente, riguardano un range molto ridotto. Non c'è nulla degli effetti, delle ricadute, e degli eventuali successi, e del funzionamento, di queste terapie, su persone adulte, su persone di 50 anni, di 60 anni. Ecco che allora, essendo relativamente giovane, questo approccio psicoeducativo, è difficile per persone di quasi 70 anni, nel caso di Tempo e Grandin, avere cognizione di questo. Però entrare nell'educazione, per persone allo spettro autistico, ma anche per le persone neurotipiche, vedremo poi le analogie, le importanti analogie. Per esempio nell'ordine delle cose, nelle regole, ma adesso ci entreremo. Quanto è importante per i genitori, una mamma e papà, che vogliono aiutare, impegnarsi e potenziarsi, come diciamo noi, ispirandoci sempre alle linee guida italiane, recenti linee guida italiane, in attesa di aggiornamento, e chiudo parentesi, il potenziamento, noi ricordo a tutti, dei genitori, è la prima raccomandazione delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano. Ecco che allora noi siamo obbligati, non solo moralmente, eticamente, ovviamente nei confronti dei nostri figli, ma anche istituzionalmente. Ce lo dice l'istituzione, cari genitori, dovete voi per primi impegnarvi e fare un passo verso a vostro figlio. Ecco che allora l'impegno nella parte cognitivo-comportamentale, dice la prima frase del libro, è stata, diciamo, eccessivamente, è un'affermazione che riguarda la seconda parte, eccessivamente messa di importanza rispetto invece alle relazioni sociali, perché noi sappiamo che mantenendo la descrizione dell'autismo come una difficoltà nel linguaggio, nella relazione, nel comportamento, il linguaggio viene gestito con approcci che, insomma, chi ha persone con autismo conosce abbastanza bene, quindi neuropsicomotricità, logopedia e terapie cognitivo-comportamentali associate poi anche a questo, ma nelle relazioni sociali davvero ancora c'è poco e comunque dipende anche dal livello di comprensione del soggetto e comunque si dice subito che è stato fatto poco nelle relazioni sociali. Ecco il motivo dell'importanza di questo libro. Questa è l'opinione espressa in questo libro, dunque, dagli autori. Da un'attenzione educativa così distribuita risultano adulti con ottime capacità cognitive, quindi la comprensione, che si possono tradurre in buone competenze professionali, ma con abilità sociali scarse o quasi nulle. C'è un bel film dal titolo Adam che potete noleggiare, insomma, è abbastanza recente, credo sia del 2009, non ricordo né regista, magari poi vi metterò un link su IMDB al termine del post, comunque il titolo è Adam, è la storia di un ragazzo, appunto, Adam, che vive, credo, negli Stati Uniti o in Canada, è un ragazzo affermato professionalmente, vive nella classica, e lavora nella classica, scusate, agenzia di software, di programmazione di computer, credo, di giocattoli, bambole, giocattoli elettronici, quindi, con funzionamenti gestiti dai computer, che lui programma e che quindi affermato al suo appartamento vive però ha dei grossi problemi nelle relazioni sociali, quindi vive in questo condominio da solo, nel suo appartamento, tutto preparato per gestire le sue difficoltà sensoriali, questo riesce a farlo anche da solo, ma nel momento in cui esce dalla porta di casa, per esempio, incontra la ragazza per cui, diciamo, potrebbe avere un'infatuazione, adesso qui è difficile subattentrarsi su questo aspetto, insomma, ha delle enormi difficoltà di relazioni, non solo con lei, ovviamente, ma con tutte quelle persone che per vari motivi o a lavoro o perché lo invitano alle feste, insomma, lui, e il film è molto, molto bello perché raccoglie una serie di episodi dove si manifestano per Adam tutte queste difficoltà sociali nella relazione sociale, ecco che allora il libro parla delle relazioni sociali di Temple Grandin e Sin Barron, quindi comportano una serie di difficoltà queste relazioni sociali che si trasferiscono nell'inserimento in qualsiasi ambiente che sia lavorativo ma anche sociale, pur essendo persone professionalmente, noi sappiamo, spesso molto preparate, anche più preparate della media, tant'è che in questo film si vede che Adam riesce a programmare questi bambolotti che parlano, rispondono alle domande in maniera programmata in maniera assolutamente imprevedibile addirittura da parte dei loro diretti superiori che gli chiedono di programmare una bambolina che tutto sommato faccia due o tre risposte semplici a domande semplici o invece costruisce addirittura quasi un automa in grado di ragionare io sto facendo un iperbole nella descrizione ovviamente però colpisce, sorprende positivamente i datori di lavoro quindi è assolutamente spesso sono assolutamente più capaci della media ma poi quando escono di casa o escono dalla propria postazione di lavoro vivono delle grosse difficoltà di relazione ecco che quindi nel caso di SIN riassume bene la difficoltà in cui ci eravamo imbattuti nell'individuare le regole non scritte delle relazioni sociali cioè si comincia nell'introduzione i due autori a dire beh noi siamo anche affermati però cosa dobbiamo scrivere noi sappiamo bene quali sono le nostre difficoltà sociali però è diventato un lavoro davvero davvero difficile da tradurre in testo scritto perché anche questo diventa una difficoltà quindi esistono il mondo dei neurotipici e il mondo delle persone con disturbi dello spettro autistico la nostra prospettiva scrive Sain Barron è il nostro modo di vedere le cose e dunque il nostro stesso processo di pensiero sono molto diversi dai vostri neurotipici eppure siamo tenuti noi ad adeguarci al vostro insieme delle regole e anche questo è un aspetto un po' secondo me controverso le persone con autismo ad alto funzionamento giustamente si lamentano del fatto che loro pur essendo una minoranza non si spiegano perché devono acquisire i nostri modelli di ragionamento per riuscire a relazionarci con noi ma è solo una questione di numeri cioè del fatto che loro sono minoranza e noi siamo maggioranza in realtà su questo aspetto mi permetto di dissentire chiaramente per un semplice motivo perché loro si sono una minoranza e noi neurotipici una maggioranza il fatto è che nemmeno fra di loro nella loro minoranza si capiscono ecco perché perché ci sono dei limiti appunto nel funzionamento delle relazioni sociali nella comprensione altrui teoria della mente e tante altre cose per cui acquisire alcuni dei meccanismi di funzionamento per comprendere la maggioranza è ciò che consente ai singoli elementi che compongono una minoranza di capire gli altri singoli elementi che compongono la loro stessa minoranza quindi non è un discorso relativista come potrebbe fare sicuramente Simbarron la mia posizione su questo aspetto a proposito di Temple Grandin parliamo dell'inizio della sua vita lei stessa scrive Temple Grandin aveva un autismo classico sin dall'inizio è stata non verbale fino a quasi all'età di 4 anni con regolari crisi di collera dovute ai suoi problemi di sensibilità tattile e uditiva questo lo sappiamo nel film ed è scritto anche molto bene ci sono diverse scene fatte molto bene se la lasciavano sola le sue attività preferite erano studiare le fibre della mochetto oppure osservare granelli di sabbia scivolare tra le dita ininterrottamente senza sosta la sua situazione era tanto grave che le fu raccomandato il ricovero in un istituto ma sua madre rifiutò di accettare un futuro simile per la figlia ecco il primo intervento dei genitori il potenziamento dei genitori è proprio la mamma di Temple che dice non accetto la ospedalizzazione la istituzionalizzazione della difficoltà di mia figlia e sappiamo siamo negli anni 50 la istituzionalizzazione di persone con crisi sensoriali persone che sbatte la testa contro il muro o possono avere atteggiamenti autolesionistici o lesionistici nei confronti di altri venivano trattati in pochi metodi con pochi sistemi molto semplici e molto banali il contenimento la sedazione oppure fino a pochi anni prima diciamo era quello un po' il periodo elettroshock o lobotomia o cose del genere insomma avete visto il film qualcuno sul nido del cuculo ecco quindi quelli erano i trattamenti della istituzionalizzazione della ospedalizzazione la mamma di Temple dice no voglio occuparmene io perché non riesco a pensare all'idea di vedere mia figlia così ecco che allora si potenzia scrive che d'altro canto Temple era anche curiosa quindi c'erano delle potenzialità creativa e molto motivata ad esplorare l'ambiente intorno a sé il suo era un mondo di progetti nel quale passava il tempo a costruire cose a cercare di capire come funzionava la vita con il suo approccio da detective la sua idea di sé era positiva forte costituita pezzo per pezzo da ciò che faceva dalle numerose esperienze cui sua madre la esponeva e dalla struttura all'interno della quale apprendeva le amicizie erano attive fondate su interessi comuni fu solo quando raggiunse l'adolescenza che per la prima volta si destò in lei la sensazione di non essere sulla stessa lunghezza d'onda dei suoi coetanei a quel punto però erano già state gettate solide fondamenta fatte di buona autostima forte motivazione creatività e flessibilità di pensiero fondamenta che la aiutarono a resistere ai terremoti causati dalle incomprensioni sociali che minacciavano di demolire il suo mondo attraverso tutte le difficoltà incontrate nel suo cammino Temple si è sempre autodefinita tramite ciò che faceva ciò ormai è noto Temple pensava per immagini e la sua mente elaborava le informazioni in maniera altamente logica il suo pensiero è di tipo logico visivo infatti nel film anche questo si evidenzia oggi lavora come docente universitario e progettista di attrezzature per bovini non vi sto a raccontare tutta la storia di Temple professionale di successo il libro guardatevi il libro non leggiatelo purtroppo è difficilissimo scusate il film è difficilissimo trovarlo in edizione italiana anzi noi non siamo riusciti a trovarlo in edizione italiana in DVD voglio dire viene trasmesso in Italia da qualche tv in italiano perché è stato comunque doppiato in italiano però in DVD è disponibile almeno noi siamo riusciti a trovare solo la versione in inglese in lingua originale confrontiamo ora la storia di Temple con il percorso di Sin marcato sin dalla tenera età da un profondo senso di isolamento ecco che quindi nel libro si parla di due persone molto diverse fra loro da sentimenti di ansia e paura molto radicati che si manifestavano attraverso modelli di pensiero estremamente rigidi da comportamenti contraddistinti da elevata ripetitività e infine da regole che per nessuna ragione potevano essere violate noi conosciamo la necessità di mantenere gli schemi nella prevedibilità appunto dei fatti e degli episodi per una persona con autismo a Sin fu diagnosticato l'autismo nel 1965 quando aveva 4 anni come Temple nemmeno lui era considerato ad alto funzionamento all'inizio secondo i criteri diagnostici odierni e allo stesso modo di Temple mostrava un ritardo nello sviluppo del linguaggio unito a problemi sensoriali ecco quindi ci siamo con le macro i macro sintomi chiamiamoli così cominciò a pronunciare numeri e lettere all'età di 3 anni ma ne aveva ormai quasi 5 quando iniziò a dire altre parole sua madre ricorda che il linguaggio di Sin era più un enumerare elenchi di capitali di stato identificativi radio e cose del genere che non un parlare in modo funzionale o mirato a fare conversazione e spesso molte persone con autismo mantengono questo modo di parlare non funzionale anche poi da adulto non sempre funzionale non guardava mai nessuno negli occhi faceva fatica a ignorare suoni esterni anche innocui come quello del campanello della porta e dava così l'impressione di non badare ai suoi genitori e agli altri adulti presenti nel suo ambiente quando in realtà tutti i suoni si contendevano ugualmente alla sua attenzione aveva una soglia del dolore molto elevata ecco la coerenza centrale nella sensorialità ne abbiamo parlato diverse settimane fa appunto nel problema della comunicazione dei neuroni e nelle aree di funzionamento del cervello aveva difficoltà non riusciva a tollerare determinate sensazioni come quella di stare seduto in una vasca da bagno di sentirsi toccare la testa o di farsi lavare o pettinare i capelli noi anche di questo abbiamo parlato alcuni di questi problemi sensoriali perdurarono in parte fino a quando se non fu ben oltre i vent'anni oggi è un giornalista vive da solo in Ohio e ha molti interessi e amici quindi persona affermata abbiamo fatto una piccola presentazione dei nostri due scrittori e iniziamo inizia Temple a parlare di se stessa da bambina da bambina ero una grande fan di Superman e il Cavaliere Solitario ricorderete insomma il Cavaliere Solitario l'eroe americano fa parte della cultura americana invece Superman insomma lo conosciamo tutti al tempo inizialmente si chiamava Nembo Kid in queste serie tv c'era una distinzione netta tra giusto e sbagliato e arriviamo anche alle analogie con l'educazione per le persone neurotipiche i buoni combattevano contro i cattivi e vincevano sempre capivo i messaggi trasmessi da queste serie grazie alla chiarezza dei valori che esprimevano per imparare cosa fosse giusto e cosa fosse invece sbagliato avevo bisogno di esempi concreti dell'una e dell'altra categoria anche adesso sarebbe molto più utile ai bambini se avessero se fossero messi di fronte a esempi corretti di cose sbagliate e esempi corretti di cose giuste non devi picchiare gli altri bambini dal momento che non ti piacerebbe se loro picchiassero te la regola per cui due torti non fanno una ragione mi era chiara e un esempio sarebbe stato rompere il giocatolo di un altro bambino perché lui aveva rotto il mio e ancora il codice di condotta di Roy Rogers era un altro eroe diciamo del tempo era un altro complesso di regole in cui riuscivo a identificarmi Roy Rogers era una serie televisiva a western per bambini e le regole che Roy aveva stabilito per le praterie del western erano anche le regole degli anni 50 e arriviamo a parlare tempo il parla dell'importanza di essere vissuta negli anni 50 perché americani perché il periodo degli anni 50 americani erano più chiari e netti ma proseguiamo ce lo dice lei stessa gli anni in cui ero bambina le regole del club dei cowboy di Roy Rogers le elenca le numera a pagina 11 erano sii sempre pulito e in ordine sii cortese ed educato obbedisci sempre ai genitori proteggi i deboli e aiutali sii coraggioso ma non metterti mai in pericolo impegnati nello studio e impara tutto ciò che puoi sii gentile con gli animali e prenditi cura di loro mangia sempre tutto quello che hai nel piatto e non avanzare nulla ama Dio e vai al catechismo tutte le domeniche rispetta sempre la nostra bandiera e il nostro paese fantastiche regole diremo noi minoranza non abbiamo paura a dirlo gli anni 50 erano un'epoca in cui la società era molto più semplice scrivo Temple più strutturata un'epoca in cui seguire le regole della nostra cultura era più una tradizione consacrata dal tempo rispetto a quanto non sia oggi invece molto spesso dopo aver tenuto conferenze rivolte a genitori e professionisti che si trovavano a confrontarsi con il mondo dell'autismo mi sentivo chiedere Temple come sei riuscito a diventare la persona che sei quali sono gli eventi del tuo percorso che ti hanno dato l'opportunità di realizzarti professionalmente di farsi degli amici di funzionare così bene nel mondo intorno a te ovviamente non c'è mai stata una risposta semplice a tutte queste domande la risposta era perché sono cresciuta negli anni 50 e 60 questa era la risposta quindi nell'ordine Temple rispondeva essere cresciuta negli anni 50 e 60 aver avuto una vita familiare ben strutturata essere mamma e papà essere creativa e curiosa per natura aver avuto genitori e insegnanti che avevano aspettative elevate nei miei confronti aver avuto regole di comportamento da rispettare ben definite con conseguenze applicate in maniera uniforme avere una forte autostima e una grande motivazione interiore queste sono state le regole che tempo grande in persona con disordine e aspetto autistico dice essere state alla base del suo miglioramento del funzionamento dell'autismo ma noi capiamo che queste sono le stesse regole che dovremmo e che applichiamo chi riesce e chi lo fa con impegno ai nostri figli per ottenere buoni risultati da loro anche se questi figli sono neurotipici vediamo la prima affermazione crescere negli anni 50 e 60 guardandomi indietro non posso che constatare di essere un prodotto del mio ambiente la struttura sociale degli anni 50 e 60 era molto più semplice di quella odierna le unità familiari erano forti le persone dimostravano molto più rispetto reciproco di quanto non facciano oggi e le attese in fatto di comportamenti erano definite molto più chiaramente come dargli torto ecco sentite come scrive in maniera asciutta e comprensibile e chiara Temple una mente autistica che va al sodo che dice le cose come stanno ai bambini si insegnava a usare le buone maniere ad avere riguardo per gli altri e a fare buone azioni nella comunità nonostante i problemi comportamentali piuttosto gravi che avevo da bambini e che poi lei ha descritto tutto questo funzionò mia madre scrive sempre Temple non ha mai creduto che il mio autismo mi dispensasse dall'imparare a funzionare all'interno della struttura sociale bisogna saper distinguere scindere quelli che sono gli effetti della sindrome autistica quindi la sensorialità lo schematismo dei comportamenti il disordine nel senso del proprio eccettivo e quindi la necessità di avere stereotipie anche visive eccetera da tutto l'aspetto psicodinamico che comunque funziona anche per una persona nello aspetto autistico e questo la mamma di Temple lo capì fin dall'inizio questo è il passaggio centrale dell'abilitazione della mamma di Temple e del successo si potrebbe dire che ha avuto la mamma di Temple con Temple quindi non ha mai pensato che l'autismo potesse dispensare Temple ricordo sottolineo apro ancora la parentesi non siamo di fronte a un grave ritardo mentale o comunque neurobiologicamente il ritardo mentale che era stato sviluppato manifestato comunque agli inizio grazie al mente diciamo evoluta evolutiva e comunque un aspetto fisiologico per certi aspetti inspiegabile si è evoluta appunto mettendo da parte liberandosi di questo ritardo mentale ma questo ricordiamo non è detto che valga per tutti il ritardo mentale è una cosa che va per la sua strada può permanere nonostante si facciano migliaia di sforzi quindi prendiamo sempre con le pinze l'evoluzione di tempo già quando avevo sei anni i miei pretendevano che sedessi a tavola con la famiglia e mi comportassi in maniera appropriata e che rispettassi le regole di casa come quella di non mettere il soggiorno sotto sopra cosa che evidentemente faceva e come tanti bambini facevano ma anche i bambini con autismo possono e devono essere educati a non mettere sotto sopra o comunque ci si lavora ovviamente anche se poi il traguardo è di là da venire all'epoca era normale senz'altro lo era nella famiglia grandi pretendere che tutti i bambini si comportassero educatamente dicessero per favore e grazie si dava per scontato senza dubitarne minimamente che avrei appreso queste abilità sociali esattamente come facciamo noi con Luca Luca è autistico alla sua severità alle sue difficoltà ma il per favore e grazie comunque quando lui dimentica di dirlo a tavola il bicchiere o il pane eccetera noi pretendiamo che lui lo dica e lui lo dice mia madre mi poneva una disciplina rigida e la applicava con costanza mi conosceva bene era una brava investigatrice comportamentale e probabilmente ho ereditato da lei alcune delle mie spiccate capacità analitiche che mi sono state d'aiuto nel corso della vita mia madre capiva la differenza tra crisi comportamentali scatenate da stanchezza o da un sovraccarico sensoriale ecco qua in quei casi non c'era nessuna conseguenza quindi il genitore deve capire se in quel momento sta agendo l'autismo oppure in quel momento il bambino diciamo fra virgolette non è sotto il peso che è comunque pervasivo dell'autismo ma quel comportamento quella data azione può essere può ricevere diciamo una modifica di tipo psicodinamico questo un genitore deve imparare a capirlo subito e la mamma di Temple lo capì velocemente e momenti appunto in cui invece non mi sforzavo neppure ero semplicemente Temple perché ci sono anche bambini autistici indolenti sfaticati e tanti altri però bisogna ben saper distinguere e vi garantisco che se per un genitore comincia a diventare abbastanza chiaro dopo un bel po' di anni questa cosa saper distinguere quando c'è l'autismo e quando invece c'è il bambino difficile che una persona esterna alla famiglia che vede il bambino mezz'ora al mese possa distinguere d'emblè queste due sfere che entrano e si mescolano spesso ecco perché i genitori sono e rimangono strategici per il progetto di vita di una persona con autismo una delle ragioni per cui mia madre lavorava così duramente sul mio comportamento era la volontà di dimostrare al mio padre e al nostro medico che non avevo bisogno di essere istituzionalizzata il rischio era quello la ospedalizziamo ecco perché anche nelle politiche familiari per l'autismo la strada da prendere è la deospedalizzazione la deistituzionalizzazione la presa in carico della famiglia la famiglia è il primo nucleo educativo per la persona con autismo ecco perché deve essere sostenuta il caregiver diventa l'anello di congiunzione tra la persona con autismo e l'istituzione ma a casa non al centro per l'autismo al centro per l'autismo si va a fare logopedia la terapia cognitivo comportamentale specifica su un certo tipo di atteggiamento autolesionistico quando non si riesca a farlo a casa perché la psicologa riesce a venire a casa cosa migliore perché l'ambiente di vita del bambino è a casa se il bambino non mangia i piselli perché sono rotondi o verdi e quindi si decide di attuare una terapia di tipo comportamentista è opportuno farlo a casa infatti spessissimo i migliori trattamenti psicoterapeuti avvengono a casa ovviamente per questo motivo ecco che allora è bene ricordare che stiamo parlando degli anni 50 e 60 periodo in cui la conoscenza dell'autismo era ancora limitata e la teoria di Bruno Bettelheim vi ricordate la fortezza vuota secondo cui esso sarebbe stato causato da madri insensibili indifferenti sovrastava tutto quanto come una nuvola nera e minacciosa nelle nostre nei nostri seminari ne parliamo ampiamente fra le tante sciagure che colpisce ancora l'autismo abbiamo parlato della più grande sciagura ma ce ne sono tante altre questa teoria che io il libro ce l'ho di qua vediamo se riesco a mostrarvelo ecco scusate se mi assento non lo trovo ecco qua scusate se ho lasciato la postazione e non lo trovo è da un'altra parte il libro La fortezza vuota è un romanzo scritto da Bruno Bettelheim che racconta la storia di una mamma e una bambina nel quale si estrapola le cause dell'autismo fondate sulla psicodinamica ma un romanzo che poi è diventato un saggio ed è diventato un punto di riferimento perfino per la scienza e ancora scrollarcelo di dosso è ancora lunga ma già Temple è un libro recentissimo questo ne parla adesso con sollievo ma con brutti ricordi al tempo in cor suo dice sempre rispetto a sua madre mia madre sapeva che ero in grado di imparare purché ciò avvenisse secondo una modalità che per me avesse senso si impegnò a fondo a far sì che non finissi in un istituto e spesso la cosa non fu facile perché gli istituti erano pronti ricordiamo che c'erano dei grandi istituti con decine di centinaia di persone dentro questo è il campanello di casa qui non posso rispondere anche se posso vedere chi c'è inoltre nell'ambiente in cui crebbi relazioni sociali e amicizie si formavano spontaneamente non si stava ore e ore in solitudine a guardare la televisione o film in dvd oppure a giocare al computer o ai videogiochi e questo fu davvero un fatto molto positivo per una bambina autistica in fase di crescita io passavo il tempo costruendo cose sviluppando progetti di aquiloni o aeroplani e divertendomi con numerose attività all'aperto con i giochi da tavolo o con le carte queste occupazioni mi insegnarono il meccanismo dei turni all'età di 5 anni costruivo già oggetti di cartone in camera mia quindi una persona che aveva anche molta manualità sicuramente e anche questo nel film si vede molto bene questi tipi di svago erano per me un rinforzo naturale accrescevano la mia autostima mi offrivano l'opportunità di esercitare abilità di ogni genere dal linguaggio alla regolazione sensoriale al controllo del comportamento ecco che quindi Temple descrive la sua persona in ciò che faceva e quanto è importante quindi avere riscontro da ciò che si fa rispetto all'essere e punto fondamentale saluto Mattia Vettore è l'autostima quindi autostima che vale anche per le persone con autismo quando questo può valere ovviamente ricordatevi sempre la premessa e la postilla quindi importante incoraggiare l'autostima una delle ragioni più centrali per cui credo scrive sempre Temple di essere riuscita a realizzarmi nel mondo come adulta è stato il fatto che mia madre mi incoraggiò sempre ad avere un'autostima forte e solida non si tratta di qualcosa di particolare che faceva lei o che gli altri genitori non facessero in realtà negli anni 50 e 60 la costruzione consapevole dell'autostima dei propri figli non era completata dalla psicologia della genitorialità i bambini si dedicavano a un numero maggiore di attività che diventarono la base per lo sviluppo della loro autostima credo tuttavia che inconsciamente mia madre avesse capito due fatti importanti per lei vediamo quali sono l'autostima si forma poco a poco attraverso conquiste concrete per esempio completare un bel ricamo cosa che richiedeva tempo fatica pazienza mi faceva sentire bene nella mente letterale e concreta del bambino con autismo l'autostima deve essere costruita attraverso il raggiungimento di risultati tangibili accompagnato da elogi verbali e in un libro in un suo libro da titolo lamentare il cui sociale di vostro figlio Katie Cohen presenta la seguente lista di caratteristiche di bambini con bassa ed alta autostima vediamo i bambini con alta autostima ecco perché all'inizio vi dicevo è importante anche per l'educazione dei bambini neurotipici perché questo funziona anche per i bambini neurotipici i bambini con alta autostima quindi sono di umore piuttosto stabile si pongono obiettivi realistici e li raggiungono sono motivati e dimostrano una grande tenacia sanno accettare un rifiuto o una critica sanno dire no ai coetanei sono realisticamente consapevoli delle loro doti e dei loro punti deboli al contrario i bambini con bassa autostima spesso incolpano gli altri delle loro azioni hanno bisogno di essere apprezzati da tutti si sentono dei perdenti criticano gli altri cadono facilmente in preda alla frustrazione hanno difficoltà ad assumersi la responsabilità delle loro azioni fanno commenti negativi su se stessi tendono ad arrendersi senza lottare granché ecco quindi spiegato da Katie Cohen la differenza dei due bambini quindi la personalità e ancora proseguiamo ha molto a che vedere con l'autostima e i genitori devono capire che alcuni bambini sin dal giorno in cui nascono hanno un atteggiamento più positivo se sono più motivati di altri questo non è legato alla presenza di un disturbo dello spettro autistico funziona diciamo per l'aspetto per la parte psicodinamica e quindi anche per i bambini neurotipici fortunatamente io appartenevo alla prima categoria di bambini e lo ammetto è stato questo aspetto a fare la differenza e a consentirmi di arrivare così lontano alcuni bambini con sindrome di Asperger scrive Sede Temple a più alto funzionamento che su una conoscenza della loro diagnosi si sentono più forti dopo aver letto di personaggi storici famosi che avevano a loro avvolto la sindrome di Asperger o altri tratti autistici ecco che sfatiamo anche questa posizione ancora e noi abbastanza diffusa fra genitori e noi parliamo con molti genitori ogni settimana del fatto che si ritenga negativo dire a un bambino autistico quando questo possa avere una funzione possa essere appunto funzionale nel suo ragionamento che sia negativo dire che egli è autistico nel modo giusto nella maniera corretta spiegando che l'autismo è una condizione che pervade la sua persona e che spiega tanti dei suoi comportamenti che lui stesso trova incomprensibili ecco che spieghiamo che questa cosa può sgravarlo di alcuni sensi di colpa dei quali sarebbe ed è spesso travolto ed è alla base per esempio nel caso delle femmine soprattutto quando abbiano una quando si è in presenza una lieve autismo molto lieve queste tendano a nascondere le loro difficoltà cercando l'omologazione o comunque con tutta una serie di artifici di trucchetti appunto nascondere non solo vivono ovviamente il disagio dentro però con molta abilità visto anche l'intelligenza comunque elevata di queste persone nascondono le loro difficoltà relazionali magari quando hanno un batticuole quando c'è una rigidità una porta che non si apre e il loro autismo però lo mistificano al punto da portare avanti questa diagnosi grazie alla loro abilità di mascheramento diciamo a addirittura 20-22 anni infatti noi le chiamiamo le ragazze invisibili dell'autismo perché? perché questa loro intelligenza elevata e capacità di mistificare le manifestazioni del loro lieve autismo riesce come dire a permettere a loro di nascondersi nella società però arrivano a un certo punto quando le prove della vita per esempio la necessità di una relazione di coppia o altre situazioni le pone davanti a un ostacolo per cui cercano di uscire cercando la diagnosi che magari arriva a 20-22-23-25 anni in maniera rocambolesca perché magari con una telefonata di un'amica psicologa o cosa del genere e quindi realizzano che i loro 20 anni di vita non erano non erano strani non sono stati strani per questioni diciamo intrinseche sul piano psicodinamico ma sono stati strani perché c'è una cosa più grande di loro che si chiama autismo o sin nome di Asperger che li ha fatti comportare così e quindi possono vedere in faccia fra virgolette questo nemico e combatterlo con pragmatismo e ragione perché spesso hanno capacità e pragmatismo e conoscendo il nemico e spesso ci riescono perché un passo per le persone ad alto funzionamento davvero utile e importante per affrontare e migliorare la loro condizione di vita è capire che sono autistici quando questo naturalmente è spiegato nel modo corretto al giorno d'oggi i bambini vengono premiati ecco i problemi dell'educazione che valgono anche per il disordine allo spettro autistico ma anche per i bambini neurotipici al giorno d'oggi dicevo i bambini vengono premiati dice sempre Temple anche per le cose più insignificanti e questo sta innescando un ciclo nel quale essi sentono il bisogno di essere approvati per ogni minima banalità negli ultimi tempi il Wall Street Journal ha pubblicato molti articoli sui giovani che entrano nel mondo del lavoro e che se non ricevono costantemente elogi da parte del loro capo non riescono a portare a termine i compiti assegnategli qualche tempo fa parlai con una persona con diversi anni di esperienza lavorativa alle spalle presso un ente governativo e le domandai un parere sugli stagisti assunti nei mesi estivi Temple scrive ancora mi disse che per la metà si trattava di ragazzi fantastici mentre l'altra la metà era composta da sfaticati o da persone che volevano ricevere complimenti per ogni sciocchezza portassero a termine genitori e insegnanti dovrebbero davvero fare attenzione a come rinforzano i comportamenti dei bambini una volta che un giovane esce dal sistema scolastico la quantità di elogi che riceve su base regolare subisce una riduzione drastica questo lo sappiamo tutti un bambino che viene costantemente ricoperto di complimenti per i suoi sforzi nell'arena sociale dovrà affrontare un brusco risveglio quando sarà cresciuto il che potrà influenzare negativamente la sua motivazione a rimanere inserito nella società e ognuno può applicare a propri casi o a casi noti queste affermazioni si tratta di un circolo vizioso cui bisogna prestare più attenzione di quanto non si stia facendo ecco che Temple davvero ci mette in guardia ci mette in guardia sulla motivazione per cui si svolgono le nostre attività quotidiane e torda quindi a parlare della sua personalità e appunto la sua profonda motivazione un secondo aspetto dice Temple della mia personalità che credo abbia contribuito significa attraveramente a farmi diventare la persona realizzata che oggi sono è la mia forte motivazione a esplorare l'ambiente che mi circonda provo infatti un desiderio innato di fare del mio meglio e di fare qualcosa al mondo ad avere un'influenza positiva su di me fu il fatto che mia madre sin da quando era in tenera età mi abbia incoraggiato costantemente a sviluppare diversi interessi esponendo me e le mie sorelle ad attività di ogni tipo e facendoci sperimentare molte cose sempre ricordate la premessa non tutte le persone con autismo possono sviluppare interessi questo dipende molto dalla loro condizione neurobiologica quindi dipende dal loro cervello questo però ovviamente non toglie il fatto che i genitori non si debbano impegnare costantemente ogni minuto nel cercare di farlo di spingere in quella direzione nella logica ovviamente del rispetto alcune cose mi piacevano dice Temple altre le odiavo mia madre non permetteva mai che a causa del mio autismo mi sconnettessi dal mondo bisogna considerare che erano gli anni 50 e 60 un'epoca in cui i bambini uscivano all'aperto erano attivi e facevano molto più moto rispetto ad oggi per me che sono cresciute in quel mondo la televisione era un privilegio e il tempo che si trascorreva guardandola era ridotto ovviamente mettere una videocassetta a guardare un film che potevano durare due una o due o tre ore non era completato non era scusate contemplato dall'educazione che ricevetti cosa che invece adesso è assolutamente probabile tra videogame e social network per i ragazzini più grandi figuriamoci né tanto meno lo erano ore interminabili passate davanti ai videogiochi ecco qua appunto o al computer a mio parere fu una buona cosa poiché mi costrinse a cercarmi nuovi passatempi che spesso mi imponevano di interagire con gli altri che si trattasse delle mie sorelle della tata o di altri bambini del quartiere poco importava in circostanze simili la consapevolezza sociale aveva numerose opportunità naturale di svilupparsi dal momento che ogni giorno c'erano molte occasioni di fare pratica ecco che quindi si riuscì nel caso di Temple a interessare e a motivare ma come funziona ne parla ancora la sua mente autistica la sua mente funziona lo dice lei stessa come un hard disk memorizza dati i genitori insegnanti e persone con disordine dello spettro autistico devono sempre sempre tenere a mente che non si smette mai di imparare che questo assioma è più che mai valido nel regno della consapevolezza sociale sforzarsi di insegnare ai bambini le regole manifeste o inespresse delle relazioni sociali è un progresso che ha bisogno di tempi lunghi ed è a lungo termine che si estenderà per tutti gli anni della loro vita non è un argomento che si comincia a studiare a una determinata età per poi ad un certo punto smettere e nemmeno un programma terapeutico con un inizio ed una fine ovviamente se è vero che lungo il percorso ci sono dei parametri per stabilire che si stia apprendendo o meno la consapevolezza sociale non è un tema che possa essere trattato in maniera semplice e lineare da un manuale in modo che dopo essere arrivata all'ultima pagina e averlo chiuso si possa dire chiaramente bene domino la materia questo è ovvio che no i soggetti neurotipici dice ancora Temple possiedono un senso sociale sin dalla nascita ecco che entriamo nel tema essi apprendono durante l'osservazione mentre i bambini e i adulti con autismo apprendono soltanto attraverso l'esperienza diretta noi lo diciamo spesso i genitori di bambini con autismo sanno che la generalizzazione ad esempio che è un meccanismo abbastanza automatico nelle persone neurotipiche non è per nulla scontato nella persona con autismo la generalizzazione è quella regola secondo cui quando un bambino con autismo insegna a bere da un bicchiere d'acqua con un bicchiere di un certo tipo lui possa fare altrettanto automaticamente quando trova un altro bicchiere che invece di essere trasparente è di plastica gialla che invece di essere appunto in vetro è di plastica e che invece di essere pieno fino sull'orlo è pieno a metà per lui non sono due bicchieri diversi sono due cose diverse quindi bisognerà insegnare che anche quell'altro è un bicchiere ecco la generalizzazione che non avviene in maniera automatica ecco perché i bambini con autismo questo è l'esempio di un bicchiere ma può valere per gli animali per tante altre cose hanno bisogno di immagazzinare 10, 20, 30, 40, 50 tipi di bicchieri diversi per capire che ogni volta che si trova di fronte a uno di questi 50 bicchieri si tratta dell'ambito del bicchiere e quindi comportarsi come bicchiere ma quando troverai il 61esimo il 51esimo bicchiere quello per lui non sarà un bicchiere dunque abbiamo detto l'esperienza diretta per esempio nei primi anni 90 non capiva ancora l'umorismo e appunto spiega questo ragion per cui talvolta le mie conferenze erano piuttosto piatte e monotone le organizzazioni di allevatori spesso mi invitavano ai loro convegni perché le diapositive e le illustrazioni che proponevano erano eccellenti ma perché una presentazione sia buona non bastano delle belle diapositive grandiosa Temple che critica se stessa dicendo non è sufficiente fare delle ottime diapositive noi nel frattempo abbiamo siamo arrivati alle 11 e 58 vi accenno solo al mondo odierno il mondo odierno c'è la differenza con gli anni 50 e 60 di cui sempre parla Temple a volte penso a come me la caverei se fosse una bambina nella società di oggi a quasi 70 anni ora il mondo non è più così strutturato come lo era negli anni in 50 e 60 quando gli obiettivi da raggiungere nella vita e le aspettative sociali erano definiti in maniera molto più chiara le persone si rispettavano maggiormente il ritmo generale della vita erano meno frenetico e molto meno carico di stimoli sensoriali la struttura dell'epoca in cui sono cresciuta al tempo insieme a quella del mio ambiente familiare instillarono in me il senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e mi insegnarono l'importanza di fare del mio meglio e di interessarmi alle persone che mi circondano noi ci salutiamo a questo punto riprenderemo lunedì prossimo il nostro ragionamento sulle regole non scritte delle relazioni sociali vi ringrazio per avermi seguito ancora un clic saluto Luca Molinaro e Laura Terrana eccoci qua ciao Laura vi do appuntamento appunto lunedì prossimo sempre alle ore 11 un clic su mi piace e condividete per permettere la maggiore fruizione di questa puntata e buona settimana a tutti ciao 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 ciao